Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale se siete di ritorno e benvenuti invece se siete nuovi. Ricordatevi, se vi piacciono i miei video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche in modo da ricevere le notifiche ogni qualvolta che andrò a caricare un video. Oggi sono qui con un video un po' formativo, andremo poi sui grafici a vedere appunto un po' l'analisi, perché ovviamente ho l'analisi che vi ho portato, andiamo a studiare un po' i prezzi. Però prima voglio spiegarvi un po' il perché di questo video. Infatti questo video spero che vada a colpire principalmente i trader neofiti o tutti coloro che magari hanno non propriamente le idee chiare sul proprio trading plan o le proprie regole di trading. Questo perché? Perché quando abbiamo delle regole sappiamo che queste regole funzionano nel lungo periodo in percentuale maggiore rispetto alle volte in cui non funzionano. Ma siamo anche pronti ad abbracciare il fatto che queste regole non funzioneranno sempre e che non possiamo impanicarci nel momento in cui queste non funzionano e non possiamo andare a cambiare il nostro intero sistema per quell'unica o due o tre o cinque volte che le nostre regole non hanno funzionato. Mi spiego meglio. Ho fatto un'operazione, ho preso uno stop loss di pochissimo e subito dopo i prezzi sono andati a target. Ovviamente io arrabbiatissima perché non solo ho perso soldi che per carità va bene lo stop loss esiste per quello ma i prezzi subito dopo sono andati a target e quindi chiaramente iniziano i vari dubbi. L'ho tracciato male, cosa potevo migliorare, come potevo fare le cose in modo diverso eccetera eccetera. Ora io ho una regola per tracciare lo stop loss che su 100 trade funziona 98 volte quindi purtroppo ci sono quelle due volte che in questo caso rispecchia un 2% in cui questo mi rema contro quindi i prezzi lo toccano e poi effettivamente vanno dalla parte giusta. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui mi succede quest'unica occasione o queste due occasioni inizio a chiedermi se c'è un modo perché io possa migliorare la situazione e portarmi a casa il target invece dello stop loss. Chiaramente il modo c'è andare ad ingrandire lo stop loss. Se questa decisione lì per lì sembra la decisione migliore perché pensiamo che allora in quel modo ci saremmo portati a casa quelle due operazioni, è questa una decisione giusta e la decisione migliore nel lungo periodo? Ricordatevi che fare questa modifica non implicherà soltanto che vi porterete a casa quelle due operazioni ma farà una modifica generale a tutto il vostro sistema che con ogni probabilità andrà a compromettere tutti i rischi rendimento di tutte le altre operazioni. Quindi la domanda è, per due operazioni su 100 o una piccola minoranza di operazioni che purtroppo non vanno come vorremmo, le nostre regole non ci avrebbero aiutato granché, ha senso modificare tutto il sistema per cui vado a peggiorare tutti i rischi rendimento? Se con questa operazione io mi fossi portata a casa un 3%, ho perso un 1% ma mi sarei portata a casa un 3%, avrei potuto ingrandire appunto lo stop loss per far sì che io mi sarei portata a casa il 3%. Ma questo ingrandimento di stop loss avrei dovuto applicarlo a tutte le altre 98 operazioni che alla lunga avrebbe ricompensato tutti i rischi rendimento facendomi perdere, pensate, ben più di un 3%. E quindi capite che alla fine questa non è la soluzione migliore, anzi, quindi il video di oggi è un po' incentrato sul quando applicare effettivamente dei cambiamenti alla strategia. Ha senso farlo per un'unica volta in cui le cose non vanno come dovrebbero? Chiaramente la risposta la sappiamo bene qui e no, però purtroppo c'è ancora chi questa cosa non la digerisce e preferisce andare ad adattare le regole ad ogni singola situazione. Quindi ogni volta che si presenta una situazione che non ci piace si vanno a cambiare le regole e questo porterà ad una strategia che non è ben delineata, che non ha delle regole ben precise, che cambia continuamente nel tempo e capite che alla lunga non ci renderemo mai conto se quello che stiamo facendo funziona oppure semplicemente stiamo un po' cavalcando l'onda di quello che succede. Quindi questa è una grande introduzione, una lunga introduzione per farvi capire qual è il concetto di oggi e ci spostiamo sui grafici. Vi faccio vedere l'operazione, andiamo a imprecare un pochettino insieme e facciamo altre considerazioni, quindi andiamo sui grafici. Dunque eccoci qua sul nostro schermo, adesso andiamo a vedere l'operazione in questione che è stata su sterlina dollaro neozelandese, andiamo a fare un'analisi, o meglio vi faccio vedere l'analisi che è stata fatta al momento del trade e andiamo a vedere poi che cosa è successo facendo poi le nostre considerazioni già anticipate all'inizio. Quindi partiamo subito dal nostro primo grafico, in questo caso è un grafico giornaliero, io parto sempre con la mia analisi dal giornaliero e vado a fare un'analisi preliminare, quindi vado a studiare un po' il trend, in questo caso ci troviamo in un trend di lungo periodo ribassista e in realtà ci sono più modi per vederla, questo perché io sono del parere che il trend non è mai ben definito, ci sono sempre più modi di lungo breve periodo per capire il trend in corso, quindi si può sia avere una visione di lungo periodo del trend, in questo caso ribassista, sia una visione di breve, in questo caso rialzista, in realtà poco cambia, principalmente poco cambia per la mia analisi, per i miei trade, perché non mi interessa effettivamente il trend di lungo né di breve, soprattutto non su questi time frame. Quindi in questo caso possiamo sia dire di essere in un trend ribassista, in questo momento in una fase correttiva all'interno di un canale, quindi tra l'altro avremo anche una trend line, insomma cose che io non guardo, oppure un trend rialzista perché da cui abbiamo invalidato questi massimi e sta continuando la spinta rialzista. Poco mi interessa, quello che più mi interessa però è che ci troviamo su un minimo precedente all'interno di una struttura che appunto viene creata da questo minimo precedente, quindi una zona di supporto, e indipendentemente dal trend in cui ci troviamo voglio vedere un rifiuto di questa zona, quindi sia che siamo in un trend rialzista, benissimo, sarà una ripresa del trend, se stiamo in un trend ribassista sarà una piccola correzione, va bene in ogni caso. Quindi io voglio cercare un long proprio per ciò che vedo qui. Vado ad inserire Ichimoku, il mio indicatore di fiducia, che mi dà sempre delle ottime conferme, e quello che vedo è che ci troviamo in una situazione di equilibrio, poiché i prezzi sono molto vicini alla Kumo, ma nonostante ciò sono parecchio distanti dalla Kijun. Questo mi fa capire che è molto probabile che qui vedremo un supporto da queste parti, così come è probabile che troveremo degli ostacoli da queste parti qua. Indipendentemente da ciò non mi interessa più di tanto, perché tanto mi fermerò molto prima con il mio target, qualora dovessimo arrivarci, e il supporto appunto lo trovo più che da Ichimoku con i minimi precedenti, quindi trovo un'ottima confluenza effettiva nella mia analisi. Ottimo, quindi dal daily passo dato che io voglio il long, mi sposto sul 4 ore e vado a cercare una confluenza di zone, quindi vado, vedete in rosa qua c'è la mia zona daily già trovata sul daily, voglio una confluenza sul 4 ore, quindi voglio un'ulteriore zona sul 4 ore, che non sia semplicemente prendere il copia e incolla dal daily, ma che sia qualcosa che arriva dal 4 ore. E in questo caso ci sono più zone, abbiamo la zona numero 1, che è lei, qua, lo sono perso, e la zona numero 2, che è questa qua, ed effettivamente vediamo che sta sentita più volte. Quindi la confluenza sul 4 ore c'è. Inoltre, volendo studiare il trend, possiamo vedere che qui ci troviamo in una grande spinta ribassista, ed è probabile che proprio a causa di questa ultima spinta, senza un minimo ritracciamento, parlo di questa qua, vedremo adesso un ritracciamento. E quindi anche qui direi che piano piano i tasselli tornano. A questo punto inserisco i cimoku, e in questo caso i cimoku, contrariamente al daily dove c'era un bel equilibrio, mi va a dare disequilibrio. Perché? Perché trovo i prezzi molto lontani dal kijun, la kijun a sua volta molto lontana dall'accumo, e i prezzi a loro volta molto lontani dall'accumo. Quindi c'è veramente grande, grande distanza. E la kijun andrà proprio ad essere il mio target per questa operazione. Quindi il daily mi ha detto che potevo valutare il long, il 4 ore mi ha confermato il daily, dandomi pure delle confluenze, quindi degli elementi in più. Abbiamo il nostro target. A questo punto vado a effettuare la mia entrata, entrata che avviene su un 15 minuti. Eccoci qua, quindi il tempo passa, chiaramente l'analisi è stata fatta prima che i prezzi raggiungessero questa zona, che comunque la rifiutassero. Che cosa vedo? Vedo un bellissimo rifiuto della zona 4 ore, e poi un piccolo ritracciamento. Io entro proprio da queste parti. Vedete, tra l'altro c'è stato un bellissimo rifiuto della candela, perché vedo questa spinta, ritracciamento, e ho poi il mio punto d'entrata preciso. E in questo caso viene preso perfettamente intorno alle 15 di pomeriggio. Quindi sono a mercato, target, stop loss. Stop loss inserito con delle regole ben precise, che adesso non sto qui a spiegare perché diventerebbe un po' macchinoso, però delle regole che applico ad ogni singolo trade, e che come detto funziona 98 volte su 100, quindi comunque uno stop loss studiato per la mia strategia, appositamente non a caso. va spesso e volentieri a rispettare anche le strutture, l'analisi tecnica, così come eventuali spike e movimenti tipo rumore di mercato generico. Entro a mercato e cosa succede? Che effettivamente per un po' noto che la mia zona tiene perfettamente. Quindi ho la mia entrata a mercato che è stata fatta qui, un rifiuto, i prezzi tornano giù, rifiutano di nuovo, tornano giù ancora, rifiutano, e stanno da quelle parti, in pratica, intorno alla mia zona d'entrata. Tra l'altro, da qui in poi, se non erro, è iniziata la notte, al che ho detto perfetto, ottima zona di accumulo, è capace chiaramente un accumulo per poi un ribasso, ma anche per un rialzo. Siccome comunque notavo un certo supporto da queste parti, ho pensato che fosse tutto a mio favore. Quindi perfetto, aspetto il giorno successivo, e il giorno successivo, purtroppo, mi viene preso lo stop loss intorno alle 8 di mattina. Quindi qua, candela delle 8 di mattina, mi sfiora, come avevo detto, proprio di pochissimo, il mio stop loss. Inizialmente ero tranquilla, perché mi son detta, vabbè, i prezzi continueranno a scendere, va bene, così, non c'è problema. Che cosa è successo poi? È successa questa cosa magnifica. Dopo lo stop loss, i prezzi sono scattati a target. E quindi, purtroppo, non solo ho preso uno stop loss, e quindi una perdita, ma ho perso un bellissimo target, con un rischio rendimento veramente, veramente stratosferico. E, purtroppo, mi son interrogata su come avrei potuto migliorare questo trade. Quindi mi sono detta, avevo modo di... Cioè, qua avrei potuto mettere lo stop loss veramente più ampio di un pip. Allora, dovrei fare la stessa cosa su tutti quanti i trade. Tra l'altro, questa non era neanche orario di spread, quindi non posso neanche dare la colpa allo spread, o al broker. Semplicemente, non ha senso per me andare a modificare di un pip tutti quanti i miei trade, perché, a parte che un pip non farà la differenza, in questo caso è veramente sfiga, c'è da dire, ma c'è stata un'altra occasione in passato dove lo stop loss mi è stato preso più o meno così, e poi i prezzi sono partiti. In quel caso si trattava di un po' di più di un pip, e la situazione diventava anche parecchio, diciamo, difficoltosa, anche perché andando ad aumentare il rischio di rendimento per portarlo più o meno così, capite che abbiamo, scusatemi, ingrandire lo stop loss per portarlo più o meno così, capite che va a peggiorare drasticamente il rischio di rendimento. E non lo fa solo per questa operazione, ma lo fa per tutte quante le operazioni. E alla lunga, è meglio prendere uno stop loss perdendosi un target, oppure vogliamo andare a modificare le regole per far sì che questo diventi un target, ma peggiorando tutti gli altri rischi di rendimento. Qual è la cosa che più ci costa alla lunga? Perché io mi sono studiata appunto questa cosa, oltre al fatto che qui non avrei potuto approssimare di un pip o aggiungere un pip perché avrei dovuto comunque rispettare delle regole di approssimazione ben diverse dal dire semplicemente ah vabbè aggiungo uno, due pip, no, non ha senso. E quindi mi andrebbe a peggiorare drasticamente tutti i rischi di rendimento, per cui sì è vero, purtroppo qua ho perso un, adesso non so quanto fosse un più quattro, e ho preso un meno uno, quindi un meno uno al posto di un più quattro, ma immaginiamo che fare questa modifica al mio trading plan e le mie regole vada a peggiorare tutti quanti i rischi di rendimento facendomi perdere un meno uno. Quindi capite che da tutti i target presi perdo un meno uno, meno uno, meno uno, meno uno, meno uno, che alla lunga sarà molto molto peggio di aver preso un meno uno perdendo un più quattro. Ok, quindi ho voluto portarvi questo esempio perché onestamente è brutto quando succede questo, poi in questo caso parliamo proprio di un movimento bello, bello pulito, che va a target, e io sono stata buttata fuori per pochissimo. Chiaramente sul momento dà fastidio, sul momento uno dice che palle, non è possibile, però poi fermandosi a pensare ci si rende conto che non ci sarebbe modo per portarle tutte a casa. Pensateci, è impossibile portarle tutte a casa, è impossibile avere delle regole così perfette che non ci fanno mai, mai, mai prendere uno stop loss che poi appunto i prezzi girano e vanno dalla parte giusta. È impossibile. È tutta una questione di statistiche, di numeri, di probabilità, di percentuali, di studi, di backtesting. Ed è importante in questi momenti avere i propri dati di backtesting perché sappiamo così come si sono comportati i prezzi in passato. Voglio fare una modifica? Bene, supponiamo di applicarla qui, ma attenzione, la vado ad applicare anche a tutti i trade passati. Che cosa succede? Vale la pena? Ha senso? Oppure è una modifica che per quanto sembri migliorativa ora, nell'immediato, è peggiorativa nel globale? Pensateci. Pensateci non soltanto per gli stop loss, ma anche per le protezioni che attuate, per i target, per le entrate, per qualsiasi cosa essa sia. Inoltre, sottolineo anche il fatto che io non sono credente, non credo insomma, nella caccia agli stop loss. Può succedere col broker che allarga lo spread, sì, purtroppo, ma questo succede in certi orari, in questo caso non è tanto una questione di spread, e poi dubito che il broker avesse voluto proprio prendere la mia operazione per poi girarmi contro, insomma, parliamo anche di persone e persone all'interno dei mercati, e non sono molto credente appunto di queste cose, di questi complottismi. preferisco tantissimo prendermi o la responsabilità delle mie scelte, in questo caso accetto il fatto che ho preso uno stop loss, con la consapevolezza che le mie regole, comunque alla lunga, mi fanno avere la meglio rispetto all'andare a cambiare le regole per far sì che questa operazione non fosse uno stop loss. Quindi io spero ragazzi che questo video vi abbia aiutato in qualche modo, che vi abbia dato qualcosa, che vi faccia ragionare, che magari vi possa dare lo spunto per delle vostre regole, magari vi ho colto proprio in un momento un po' di indecisione sulle regole, allora vi ha potuto aiutare, fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando, fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un like, noi ci vediamo in un prossimo video, e non la buon trading a tutti, e mi raccomando, se volete fare una modifica alle vostre regole, applicatela a tutti i trade precedenti, e chiedetevi, qual è la cosa migliore? Portarmi a casa questo, modificando e perdendo qualcosa da tutti gli altri, o accettando semplicemente che è andata così, ma alla lunga, o la meglio tra virgolette io, pensateci, perché sono cose molto importanti che fanno la differenza nel lungo periodo nel nostro trading. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!